All'alba di oggi, sulla spiaggia della Calanca, Marina di Camerota, si è verificato un episodio di grave violenza. Intorno alle 5 del mattino, un giovane che stava riposando sulla spiaggia è stato aggredito da due ragazzi con accento romano. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe chiesto ai due di abbassare il volume della musica che stavano ascoltando. La richiesta, però, ha provocato una reazione violenta da parte dei due che lo hanno prima insultato e poi colpito con calci e pugni. Successivamente, i ragazzi hanno afferrato i pali degli ombrelloni e li hanno usati come armi per colpire ripetutamente la vittima, per poi gettarla in mare. L'aggressione è stata interrotta dall'intervento tempestivo del guardiano della spiaggia, che richiamato dalle urla, si è precipitato sul luogo dell'incidente. Alla vista del guardiano, i due aggressori si sono dati alla fuga, scappando per le scale che portano verso la strada. Il giovane aggredito, visibilmente scosso e con diverse contusioni, è stato soccorso dallo stesso guardiano e successivamente trasportato al vicino ospedale per accertamenti. Nonostante le botte subite, le sue condizioni non sembrano gravi. Intanto i carabinieri di Marina di Camerota stanno indagando sull'accaduto e hanno avviato le ricerche per identificare e fermare i responsabili di questo atto di violenza.